Il quadro è ancora tutto molto vago perché nemmeno l'ufficialità sull'identità del cadavere ritrovato mercoledì in un'area abbandonata, quasi una sorta di discarica abusiva dentro al parco San Giovanni di Trieste, è arrivata dalla procura che ha anche stabilito per la prossima settimana l'autopsia sul corpo. La corporatura e le circostanze portano però verso l'ipotesi che si tratti di Liliana Resinovich. Il silenzio degli inquirenti potrebbe far presagire nuovi sviluppi imminenti sul caso perché gli elementi nelle mani degli investigatori portano verso diverse direzioni. Il corpo ritrovato con un sacchetto legato intorno al collo. Le condizioni del cadavere che nonostante il tempo passato era ancora in buone condizioni ma nessun segno di trascinamento in zona. La telefonata che avrebbe avvertito del luogo dove trovarlo. Tutti elementi che hanno un peso per gli investigatori. La zona del ritrovamento è la stessa dove era stato ritrovato il cadavere di un altro giovane Daniele De Filippi il 25 luglio del 2020. Anche lui era scomparso di casa. Una sorta di scarpata recintata e piena di rifiuti. Proprio qui si era addentrato, mosso da una sorta di premonizione, l'amico di Liliana Resinovich, Fulvio Covolero, che ha raccontato in aver perlustrato con un amico la zona intorno alla chiasetta, a pochi decine di metri dal luogo del ritrovamento. Sul suo profilo, aperto su Facebook al nome di Lilli, dove riprende ciò che aveva scritto il 19 dicembre scorso, quattro giorni dopo la scomparsa della donna, Covolero dice di escludere che Liliana possa essere stata vittima di un malintenzionato. La conoscevo bene, scrive, non era una sprovveduta. E sempre Covolero conferma l'appuntamento alle 18 davanti alla chiesa di San Giovanni. Non ci sarà una fiaccolata, scrive, basterà che ognuno porti un fiore e al ritorno lo lasci fuori dalla chiesa.